La Nato mostra i muscoli ai nemici ritrovati. La nuova forza di reazione rapida dell'Alleanza Atlantica ha avviato le prime esercitazioni sul terreno in Polonia. Dal 9 al 19 giugno, 2.100 soldati con a disposizione oltre 200 mezzi hanno dato il via alla fase centrale del piano di miglioramento della riattività delle forze militari lanciato lo scorso autunno. Abbiamo bisogno di forze pronte e preparate e anche di procedure decisionali veloci per essere in grado di rispondere alle minacce e alle sfide in brevissimo tempo. Inizialmente composta da 13.000 soldati, secondo le previsioni di Stoltenberg, la forza di reazione rapida della Nato arriverà a contare fino a 40.000 effettivi. Tra questi verrà addestrata una brigata speciale di 5.000 soldati sostenuti da forze aeree e marittime pronti a essere operativi in 48 ore. La cosiddetta forza di reazione rapida Spered ha a disposizione sei centri di comando distribuiti lungo il fianco orientale della Nato. Ogni centro ha a disposizione un personale di 50 unità. La riforma operativa della Nato si inserisce in un contesto di forte tensione con la Russia che, al contrario dell'Alleanza Atlantica, ha aumentato la propria spesa militare negli ultimi dieci anni. Gli investimenti complessivi destinati alla Nato dovrebbero scendere dell'1,5% nel 2015. Quindi dobbiamo fare di più per aumentare gli investimenti nella nostra difesa perché le minacce alla nostra sicurezza sono aumentate. L'obiettivo della Nato è quello di incoraggiare i 28 Paesi membri a destinare in dieci anni il 2% del loro pilla alla difesa. Nel 2014 solo quattro Paesi, Stati Uniti, Regno Unito, Estonia e Grecia, hanno raggiunto questo obiettivo, mentre la Polonia si appresta a raggiungerlo entro la fine di quest'anno. I problemi operativi della Nato non sono solo economici ma anche burocratici. L'Alleanza non può prendere decisioni politiche rapide per dispiegare le sue forze e ha bisogno dell'approvazione di tutti i 28 Stati membri per avviare un'azione militare. La Costituzione italiana e quella tedesca, ad esempio, prevedono il via libera del Parlamento per poter inviare truppe.